E' strumento di ricerca e di studio ma anche di emozioni. L'opera di Dioscoride nasce in funzione del sapere medico. Tra le sorgenti del conoscere in materia medica, il Dioscoride è sicuramente una prieta a miliare. Un percorso affascinante, capace di svelare ciò che nel manoscritto Dioscorideo era rimasto misterioso fino ai nostri giorni. L'intervento di Aboka ha permesso di giungere alla pubblicazione di due prestigiosi volumi. Un'opera che unisce il fascino del facsimile alle prerogative di un moderno studio di botanica e farmacologia. E' un sapere ancora oggi preziosissimo. Grazie. Grazie. Grazie.